come trasformare una powerpoint in un video che contenga i commenti alle singole slide o diapositive seleziono innanzitutto la powerpoint che intendo trasformare in video seleziono presentazione e dal menu presentazione registra presentazione dall'inizio avvio la registrazione mantenendo i criteri selezionati e cioè gli intervalli e i commenti audio input penna e puntatore laser avvio la registrazione dirò che l'enciclopedia è senza dubbio l'opera più rappresentativa dell'illuminismo e che in questo video ne illustreremo le caratteristiche fondamentali dopo aver detto questo passo alla diapositiva successiva e illustro le caratteristiche fondamentali dell'enciclopedia partendo dalla definizione dai curatori eccetera eccetera dopo aver registrato tutti i commenti alle singole diapositive di cui si compone la mia presentazione powerpoint posso terminare la registrazione cliccando sulla finestra registrazione in corso ultimata la registrazione salverò la mia presentazione in formato mp4 dopo aver selezionato file cliccherò su esporta e poi su crea video potrò scegliere le dimensioni del file e la qualità selezionando una delle quattro opzioni presenti nella finestra sceglierò full hd come suggerito dal programma dopodiché cliccherò su crea video darò al video lo stesso nome della presentazione powerpoint specificando se necessario che si tratta del video attenderò a questo punto la conversione della powerpoint in video verificherò infine che la conversione sia effettivamente avvenuta controllando che nel video che ho creato ci sia tutti i commenti registrati a questo punto una volta creato il video posso rielaborarlo inserendo musica e transizioni utilizzando un programma di video editing dal più semplice movie maker a filmora ad adobe per la registrazione è possibile utilizzare il microfono del computer soprattutto se questo è portatile nel caso di pc desktop occorre dotarsi di un microfono usb esterno che va inserito nell'apposita uscita usb come una qualsiasi periferica esterna la qualità dell'audio dipenderà ovviamente dalla qualità del microfono